Con questo tutorial vediamo dei polinomi che possono essere scomposti con il teorema di Ruffini. Partiamo da questo esempio. La prima cosa che devo andare a fare è cercare i divisori del termine noto, ossia i divisori di meno 10. E sono questi qui. Ora vado a cercare lo 0 di questo polinomio, ossia devo cercare quel numero che, sostituito alla x, mi dà 0. Questi numeri li vado a cercare all'interno dei divisori di meno 10. Inizio con 1 e scrivo P di 1. Questo vuol dire che al posto della x andrò a sostituire 1. A conti fatti mi rendo conto che ottengo 0. Allora scrivo che 1 è uno 0 di questo polinomio. Per il teorema di Ruffini, allora questo polinomio può essere fattorizzabile e il primo fattore sarà x meno questo numero e allora scrivo x meno 1 per qualcos'altro. L'altro fattore lo vado a determinare utilizzando la regola di Ruffini. Ricopio i coefficienti di questo polinomio. 1 è il coefficiente di x cubo, meno 8 è il coefficiente di x quadro, 17 è il coefficiente di x e meno 10 è il numero. Qui invece vado a ricopiare lo 0 del polinomio, che in questo caso è 1. Abbasso ora questo 1 e lo ricopio qui. 1 per 1 ottengo 1 e quello che ottengo lo metto qui. Ora meno 8 più 1 si ha meno 7. Di nuovo meno 7 per 1 ottengo meno 7. 17 meno 7 ottengo 10. Ed ora 10 per 1 ottengo 10 che scrivo qui. Ed infine meno 10 più 10 ottengo 0. Ricordo che questo numero è il resto della divisione di questo polinomio per x meno 1 e siccome che questo polinomio è divisibile per x meno 1, qui deve uscire sempre 0. I numeri 1, meno 7 e 10 sono i coefficienti di un polinomio di un grado inferiore al polinomio di partenza. Questi numeri erano coefficienti di un polinomio di terzo grado. Questi tre numeri risulteranno essere i coefficienti di un polinomio di secondo grado. E allora qui vado a ricopiare il polinomio che ottengo dalla regola di Ruffini e vado a scrivere x alla seconda meno 7x più 10. Mi rendo conto che questo polinomio lo posso ancora scomporre. Potrei utilizzare Ruffini ma non conviene. Osservo invece che questo polinomio può essere scomposto utilizzando il trinomio caratteristico, ossia vado a cercare due numeri che moltiplicati danno 10 e sommati meno 7. I due numeri sono meno 2 e meno 5, allora questo fattore lo posso scomporre in questo modo. Complessivamente quello che ottengo è la scomposizione di questo polinomio. Vediamo quest'altro esempio. Voglio scomporre questo polinomio utilizzando il teorema di Ruffini. La prima cosa che devo andare a fare è cercare i divisori del termine noto, ossia di 2. I divisori di 2 sono più o meno 1 e più o meno 2. Ora vado a cercare lo 0 di questo polinomio, ossia quel valore che sostituito alla x mi da 0. I numeri che vado a sostituire al posto della x li scelgo all'interno dei divisori di 2. Inizio con 1 e scrivo P di 1, vuol dire che al posto della x sostituisco 1. Mi rendo conto che quello che ottengo è una quantità diversa da 0, allora devo andare avanti. Provo con meno 1. Ed anche in questo caso mi rendo conto che quello che ottengo è una quantità diversa da 0. Provo allora con 2. Avendo ottenuto tutti i numeri positivi certamente non posso ottenere 0 e allora anche questa somma è diversa da 0. Provo infine con meno 2. A conti fatti mi rendo conto che ottengo 0, allora posso dire che meno 2 è uno 0 del polinomio. Ciò vuol dire che questo polinomio è fattorizzabile ed è fattorizzabile per x meno questo numero. Avendo ottenuto qui meno 2 devo scrivere meno meno 2, ossia x più 2 per qualcos'altro. L'altro fattore lo vado a determinare utilizzando la regola di Ruffini. Qui vado a ricopiare i coefficienti di questo polinomio, mentre qui vado a ricopiare lo 0 del polinomio. Ora abbasso l'1 e lo ricopio. 1 per meno 2 ottengo meno 2 che vado a scrivere qui. Meno 2 più 2 ottengo 0. 0 per meno 2 ottengo 0 che scrivo qui. Poi ho 1 più 0 ed ottengo 1. Ed ora 1 per meno 2 ottengo meno 2 che scrivo qui. Ed infine meno 2 più 2 ottengo 0. Questi numeri risultano essere i coefficienti di un polinomio di un grado inferiore rispetto al polinomio di partenza. E allora i coefficienti di questo polinomio sono i coefficienti di un polinomio di secondo grado che vado a ricopiare qui. E quindi scrivo 1x quadro, cioè x quadro, qui non ricopio nulla perché il coefficiente è 0, più il numero, più 1. Ancora non ho finito perché questo polinomio è un polinomio di secondo grado, quindi devo vedere se è fattorizzabile. Mi rendo conto che questo polinomio non lo posso scomporre, allora lo devo lasciare così com'è. E ciò vuol dire che questo polinomio si scompone in questo modo. Vediamo quest'ultimo esempio. Per scomporre questo polinomio devo andare a cercare prima di tutto i divisori del termine noto, ossia di 20. Questi numeri risultano essere i divisori di 20. Ora vado a cercare lo 0 di questo polinomio ed i numeri che vado a sostituire alla y li vado a prendere all'interno dei divisori di 20. Iniziamo da 1. Ecco perché ho scritto p di 1. Al posto della y sostituirò questo numero. Mi rendo conto che quello che ottengo è una quantità diversa da 0. Provo allora con meno 1. Anche in questo caso ottengo una quantità diversa da 0. Provo allora con 2. In questo caso ottengo 0. Allora vuol dire che questo polinomio è fattorizzabile per y meno 2, cioè l'opposto di questo numero. E allora posso dire che un fattore di questo polinomio è proprio y meno 2. Gli altri fattori non li conosco e scrivo per puntini puntini. Per determinare questi fattori eseguo la divisione di questo polinomio per questo polinomio utilizzando la regola di Ruffini. Ricopio i coefficienti di questo polinomio e qui ricopio lo 0 del polinomio. Ora abbasso l'1 e lo ricopio qui. 1 per 2 ottengo 2 che lo scrivo qui. Meno 5 più 2 ottengo meno 3. Meno 3 per 2 ottengo meno 6 che scrivo qui. Poi meno 4 meno 6 ottengo meno 10. Ed ora meno 10 per 2 ottengo meno 20 che scrivo qui. Ed infine 20 meno 20 ottengo 0. E allora vuol dire che questi numeri sono i coefficienti di un polinomio di un grado inferiore rispetto al polinomio di partenza. E quindi, al posto dei puntini, vado a ricopiare y quadro meno 3y meno 10. Posso osservare ora che questo polinomio lo posso scomporre come trinomio caratteristico. È sufficiente trovare due numeri che moltiplicati danno meno 10 e sommati danno meno 3. I due numeri sono 2 e meno 5. Infatti, 2 per meno 5 ottengo meno 10 e 2 più meno 5 ottengo meno 3. Complessivamente, quello che ottengo è la scomposizione di questo polinomio. E con questo termino il tutorial sulla scomposizione di polinomi utilizzando il teorema di Ruffini.